Il brasiliano discute di nuovo con Nicola Salisci La scorsa volta il pugile l'ho andato a trovare nel suo albergo in Sardegna Mentre invece questa volta i due si sono visti all'interno di un parcheggio E poi fondamentalmente è successo quello che vedete nel titolo Qui su Youtube mi metterò solamente uno spezzone di tutto Diciamo le parti più tranquille Il resto invece lo trovate su Telegram Che come sempre è nella bio del mio Instagram Se avete problemi di entrare nel Telegram Qui c'è questa mini guida Che poi metterò anche nelle stories Per sbloccare il canale Non aggiungo altro, vi lascio filmati Noi ci vediamo un prossimo video In linea allo studio Vieni qui a schifo dopo, vieni qua, vieni Brutto, infame, indegno Tu sei un infame e un indegno Te sono venuto a casa Dentro casa te sono venuto Non hai fatto l'agguato Brutto, infame, schifo dopo, indegno